Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. San Riccardo, medico dei corpi e animatore dei cuori, chiedi al Signore per noi salute e fede. San Riccardo, fedele nelle prove e coraggioso Apostolo di Cristo, chiedi al Signore per noi fortezza e carità. San Riccardo, profondo conoscitore del mistero di Dio e della debolezza dell'uomo, ottiene anche a noi la grazia di poter scoprire il Signore nelle varie vicende della nostra vita. Eterno Padre, Dio di misericordia, ascolta la nostra preghiera e concedici la grazia. Che ti chiediamo per intercessione di San Riccardo. Egli sia per noi il medico che protegge la nostra salute e il santo che difende la nostra amicizia con te. Signore Gesù, che vi compiaceste di esaltare gli umili, di rivelarvi ai puri e di darvi in premio ai misericordiosi. Concedetemi la grazia. Che fiducioso vi chiedo, per intercessione di San Riccardo Pampuri, esempio luminoso di umiltà, di purezza e di misericordia, a vostra maggior gloria e a salute dell'anima mia. San Riccardo, medico dei corpi e delle anime, prega per noi il Signore Gesù affinché questo nostro fratello, ammalato, possa riacquistare il vigore del corpo ed ottenere serenità dello spirito, pazienza nel dolore. E dopo una felice convalescenza, ritornare insieme con tutti noi a lodare il nome del Signore. San Riccardo, innamorato di Cristo, prega per noi. San Riccardo, fedele e seguace di Cristo, prega per noi. San Riccardo, umile ricercatore della verità, prega per noi. San Riccardo, fiducioso nella provvidenza di Dio, prega per noi. San Riccardo, che hai saputo unire l'amore di Dio con l'amore del prossimo, prega per noi. San Riccardo, figlio e testimone della misericordia di Dio, prega per noi. San Riccardo, fedele e seguace della croce, prega per noi. San Riccardo, obbediente alle indicazioni dello Spirito Santo, prega per noi. San Riccardo, che hai costruito la tua vita sulla roccia, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Per intercessione di San Riccardo Pampuri, Signore, rendimi capace di pensare sempre e solo a te, lasciando che tu pensi a noi. Signore, aiutami a fare anche le cose minime con amore grande. Signore, fa che ti serva sempre, non con timore servire dei castigli, ma per amore. Signore, aiutami a cercare sempre la verità, con ardore e con sincerità, perché dove è la verità è anche il nostro sommo bene. Signore, fa che tutto, pensieri, parole ed opere, sia per lodare e servire te. Signore, dammi la grazia di servire gli altri come servirei te. Signore, fammi conoscere la tua volontà, affinché io non abbia, né tentarti chiedendoti ciò che a me non conviene, né diffidare dell'infinito tuo misericordioso aiuto. Signore, fa che la superbia, l'egoismo o qualsiasi altra mala passione non mi impediscano di vedere Gesù nel mio prossimo. O Maria, scuotimi, svegliami dal mio torpore, dalla mia pigrizia, dalla mia tiepidezza cronica, ed infiammami di quella fiamma divina di carità che il tuo divin figlio è venuto a portare tra noi. San Riccardo, hai camminato un tempo per le strade della nostra terra. Hai pregato nel silenzio delle nostre chiese. Hai servito con amore e intelligenza agli ammalati delle nostre case. Sei stato accogliente verso ogni persona che ti ha cercato. Oggi, come un tempo, i tuoi malati, anch'io ti cerco e mi rivolgo a te, perché tu mi aiuti a guarire nel corpo e nello spirito e mi ottenga dal Signore la tua stessa fede. San Riccardo Pampuri, medico dei corpi e delle anime, benedici i nostri bambini, i giovani, gli anziani, i bisognosi e in particolare tutti i nostri ammalati e gli oggetti e le cose che ti presentiamo. Ottienici dal Signore tutte le grazie che ti chiediamo e in particolare aiutaci a capire e a fare la volontà del Signore. San Riccardo, siamo venuti sulla tua tomba perché ci aiuti a metterci sulla tua strada. Come noi, hai sognato. Riccardo, prega Dio perché dia compimento alle nostre speranze. Come noi, hai studiato, Riccardo. Prega Dio perché ci sveli la sua verità. Come noi, hai tribolato, Riccardo. Prega Dio perché ci renda più forti nella vita. Come noi, hai atteso, Riccardo, di comprendere le vie del tuo futuro. Prega Dio perché sappiamo essere sempre vigilanti e riconosciamo la strada della sua chiamata. A somiglianza a di Gesù, hai saputo sperare anche nelle difficoltà. Fregare pur tra mille preoccupazioni. Hai saputo voler bene in ogni circostanza. Ottienici dal Signore l'entusiasmo e la generosità della tua vita. San Riccardo Pampuri Accompagnami nei miei viaggi E donami il perfetto controllo della macchina Perché nei vari percorsi di lavoro o di svago Moderando la velocità Guidi con perizia e prudenza Per la sicurezza e l'incolumità di tutti E possa tornare sano e salvo Presso i miei cari Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amo